Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con la crisi economica legata all'emergenza coronavirus, in particolare con l'Assemblea Toscana che aiuta ancora una volta le categorie più colpite, in questo caso i maestri di sci e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Un milione di euro a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e 200.000 euro per i maestri di sci, entrambe categorie duramente colpite dall'emergenza coronavirus. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità due provvedimenti che mirano ad un ulteriore aiuto. I contributi economici andranno ai maestri di sci iscritti all'albo professionale, che lavorano in modo continuativo nella regione e ai lavoratori autonomi che sono stati fortemente penalizzati dalla perdurante interruzione delle attività di spettacolo in seguito alla pandemia. Credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come e quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini, delle imprese, delle famiglie toscane, si riesce anche a dare una risposta. Naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha, ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme e il mio ringraziamento va all'Ufficio di Presidenza, al Presidente Mazzeo, ai Vice Presidenti Casucci, al Vice Presidente Scaramea, tutto l'Ufficio di Presidenza nella sua completezza perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte e tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'Ufficio di Presidenza. Da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci. Quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della Giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla Giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione, soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo. L'elemento progettuale introdotto come premialità, oltre al fatto di avere un contributo a pioggia, è un elemento che vuole riconoscere il fatto che il lavoro in ambito culturale produce un doppio livello di frutti. Non solo è il lavoro e quindi crea benessere e fa sostentare i lavoratori, ma crea anche un prodotto che fa crescere tutta la popolazione toscana. Quindi il prodotto del lavoro culturale è un prodotto che ha una ricaduta positiva doppia, perché ci fa bene anche poter vedere e frequentare quello che gli artisti e che i lavoratori dello spettacolo producono con i loro progetti. Quindi ecco, questo è il senso della premialità, insieme all'elemento di riconoscimento del danno, nella logica più pura, più semplice dei ristori che danno un tanto a ciascuno. La beffa quest'anno è che l'attività scistica non è resa possibile dalle normative stringenti per quanto riguarda il Covid. Quest'anno proprio che c'è stata molta neve. Dobbiamo però affrontare il problema dei finanziamenti, degli impianti di risalita in maniera organica, con la consapevolezza che la stagione invernale, la stagione scistica è sempre più breve. Quindi dobbiamo fare un ragionamento per cercare di capire come dare anche un nuovo impulso alle aree montane durante l'inverno, anche al netto naturalmente di quella che è l'attività dello sci. Sicuramente però, fino a che non si sarà improntata una nuova strategia economica, sarà necessario continuare a sostenere anche le attività e soprattutto l'ammodernamento e la funzionalità degli impianti di risalita. Esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge di contributi ai maestri di sci. Un'annata paradossale, tanta neve e purtroppo però non si può sciare neppure in Toscana. E quindi siamo molto soddisfatti di aver fatto squadra in ufficio di presenza per la presentazione di questa proposta di legge che va incontro a questa categoria così colpita dalla emergenza. E' un segnale importante di vicinanza a una di quelle categorie di fatto finora praticamente dimenticate. Dal Consiglio regionale si chiede giustizia a gran voce per la morte di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandici, ucciso all'interno di una discoteca a Ioredemar in Spagna nell'agosto del 2017, durante una brutale rissa adesso. L'imputato principale in questo processo si teme che possa anche non venire giudicato. Per questo c'è un appello alle massime istituzioni, al governo e anche alla giustizia spagnola proprio per far sì che la verità venga a galla in maniera certa da un processo che deve essere celebrato al più presto. Sì, un'anime del Consiglio regionale alla mozione sulla richiesta della famiglia di Niccolò Ciatti affinché il processo in Spagna riguardante la morte del figlio deceduto nell'agosto del 2017 durante un brutale pestaggio all'interno di una discoteca di Ioredemar giunga a una conclusione prima della scarcerazione del principale imputato. L'atto impegna il Presidente della Regione e la Giunta Toscana a sollecitare le autorità spagnole affinché il processo che vede alla sbarra Rasulbi Sultanov si concluda prima della scadenza dei termini di carcerazione preventiva dello stesso cittadino ceceno, ossia entro agosto 2021. Si è vicini alla famiglia cercando di dare concretezza ad una legittima richiesta portare a processo l'esecutore materiale dell'omicidio perché di questo si tratta di Niccolò Ciatti e possibilmente anche impegnarsi per portare a processo anche i due coautori perché poi erano tre le persone che hanno perpetrato questo gesto dirittuoso l'omicidio appunto di Niccolò. Non è stata e non conterebbe niente ma non è stata una rissa, futili motivi, non c'è stato un diverbio prima che potesse portare a quello che è accaduto. Niccolò è stato individuato e volutamente e barbaramente ucciso dal ceceno e dai ceceni con la collaborazione appunto dei due che erano insieme all'esecutore materiale. Quindi la richiesta per farla breve è quella che tutti si impegnino affinché si arrivi prima di agosto ad una definizione che consenta di dare giustizia a Niccolò. La famiglia per prima è consapevole che questo non riporterà in vita Niccolò ma è di basilare e fondamentale importanza la giustizia consegnare alle patrie galere una persona e quelle persone che hanno fatto questo gesto delittuoso. Devo dire che il ministro Bonafede, il ministro della giustizia ha risposto alla lettera del 5 di gennaio del sindaco di Scandicci Sandro Fallani impegnandosi chiaramente con il suo omologo spagnolo affinché la giustizia spagnola faccia il proprio corso nei tempi dovuti. Un atto doveroso perché dobbiamo stare vicino moralmente ma noi come assemblea regionale anche politicamente affinché venga fatta giustizia. Giustamente il consigliere Torzelli ha specificato tutte le procedure giuridiche che stanno succedendo in Spagna. Noi abbiamo secondo me il dovere, ripeto, morale di fare in modo che il nostro governo insista affinché venga fatta giustizia ma soprattutto che non avvenga il 12, mi sembra che sia il 12 di agosto prossimo la scarcerazione di questo individuo perché il rischio potrebbe essere quello che lui possa anche poi dopo trovare sistemazione altrove e non essere più dopo perseguibile per cui credo che assolutamente debba essere fatto un processo debba essere fatto nei termini e nei tempi più vicini dopodiché io sono personalmente vicino alla famiglia di Niccolò tra le altre cose è un nome che ci lega è un nome e mando un abbraccio forte a tutta la famiglia. Il rischio enorme che ad agosto del 2021 l'omicida di Niccolò Ciatti possa essere rimesso in libertà ha spinto Fratelli d'Italia a presentare un atto sul quale abbiamo trovato la convergenza di tutto il Consiglio regionale ringrazio i colleghi Merlotti, Vannucci e Galli che l'hanno anche voluta sottoscrivere è una mozione che altro non fa che impegnare la Regione Toscana al fianco degli altri enti penso al Comune di Scandicci, penso al Governo nazionale perché i Ministri Bonafede e Di Maio si sono sempre mossi in questa direzione e quindi pur non facendo parte della mia forza politica riconosco loro un impegno in questa direzione è assolutamente necessario che l'Italia l'Italia come Stato pretenda che il processo all'assassino di Niccolò Ciatti venga celebrato entro l'agosto di quest'anno perché sarebbe intollerabile e inaccettabile che questo signore che ha deliberatamente ammazzato Niccolò fosse rimesso in libertà perché se questo viene rimesso in libertà da un carcere francese stiamo parlando di un cittadino ceceno questo il giorno dopo è un latitante e alla famiglia Ciatti noi facciamo anche il secondo torto dopo quello di aver visto la scomparsa del loro figlio vedere anche un processo senza l'imputato seduto al tavolo degli imputati e questo sarebbe intollerabile per l'Italia tutta quindi la Spagna ha voluto legittimamente tenersi il processo in terra spagnola adesso lo celebri e lo celebri nei tempi adeguati anche il tema infrastrutture al centro del dibattito in consiglio regionale in particolare il corridoio tirrenico con una mozione approvata per lo sblocco dell'opera inserire il corridoio tirrenico tra le opere da sbloccare tramite la nomina di un commissario così come previsto dal decreto legge semplificazioni è quanto chiede una mozione approvata dal consiglio regionale che prevede di far attivare la Toscana nei confronti di tutti i soggetti interessati affinché venga perfezionato quanto prima il passaggio di competenze da SAT ad ANAS necessario alla realizzazione del corridoio tirrenico nell'interrogazione noi si chiedeva che cosa avrebbe voluto o cosa avrebbe potuto fare la regione in realtà la risposta è stata un escursus temporale sui vari problemi noi non possiamo accontentarci di una lezioncina perché purtroppo essendo io di Grosseto ho visto morirci tanti miei amici persone che conosco e quindi per me è qualcosa che mi tocca il cuore per me e i miei concittadini per cui deve diventare assolutamente una cosa prioritaria per la regione perché per noi è esiziale sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista infrastrutturale economico perché inevitabilmente per noi è fondamentale questa strada la nostra posizione sul corridoio tirrenico è una posizione risaputa da decenni nel senso il centro-destra è favorevole al corridoio tirrenico che è un buco nero che c'è nella Toscana che viene scontato ogni anno in chance, in opportunità, in competitività dalle nostre aziende, dai nostri lavoratori, da chi appunto si muove in Toscana ci fa piacere che anche il centro-sinistra finalmente prenda una posizione ufficiale su questo tema perché uno degli ostacoli insormontabili rispetto al corridoio tirrenico di questi anni è stata appunto la contrarietà di tanti pezzi della sinistra e del centro-sinistra toscano compreso tanti sindaci, compreso tanti livelli istituzionali vorremmo capire quello che ho detto oggi in consiglio da parte della regione toscana anche che gioco vuol giocare rispetto al recovery plan perché è evidente che il corridoio tirrenico proprio anche per il suo carattere interregionale per il suo carattere direi nazionale è uno dei punti su cui scommettere all'interno del recovery plan è importante la Toscana si pronunci per fare in modo che quanto prima arrivi il commissario deve essere un'opera strategica fondamentale per lo sviluppo della Toscana in relazione anche ad altre regioni ho avuto la tempestività di presentare subito una mozione a mia firma oggi il consiglio regionale l'ha approvata questo è un atto importante politico con il quale il consiglio regionale della Toscana chiede al nostro governatore di attivarsi nei confronti del governo per fare in modo che venga commissariata all'opera l'intervento possa realizzarsi e possa rientrare fra le infrastrutture principali del decreto semplificazione che sempre televiva a livello nazionale ha promosso e che oggi vede questa opera altrimenti ferma al palo così come è stata negli ultimi anni deve avvenire quello che è avvenuto per la Due Mari due grandi opere importanti per la Toscana con questo è davvero tutto grazie per essere stati con noi la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui potete però sempre seguire anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it tutte le principali attività dell'Assemblea Toscana grazie ancora e buon proseguimento ovviamente su RTV38 arrivederci grazie a tutti